Avanti da circa tre settimane l'iniziativa promossa dal neonato comitato Abbiategrasso che vorrei per raccogliere le firme per dire no al parco commerciale che potrebbe sorgere alle spalle dell'annunciata. Stiamo raccogliendo le firme per contrastare l'insediamento di grande distribuzione che è in progetto ad Abbiategrasso. Abbiamo intenzione di proseguire oltre il Natale. Considerato che gran parte dei moduli si trovano a disposizione dei commercianti abbiamo deciso di approfittare della maggior affluenza del periodo natalizio per concludere poi la raccolta delle firme. Abbiamo raggiunto il banchetto e sentito chi ha deciso di fermare e perché. Una persona sana di mente non può che aderire a un'iniziativa del genere. Ormai non rimangono più spazi verdi, se andiamo avanti così ci ricopriamo di cemento. Sono contrario ai centri commerciali, perlomeno in area urbana. I centri commerciali ci sono già e quindi non ce n'è bisogno di altri, anche perché su quella direttrice ne stanno praticamente facendo di altri, Merlata, Ro, Cinisello e quindi ad Abbiategrasso sono assolutamente inutili. Una pazzia, mettere altri centri commerciali grandi quanto ce ne sono tanti, alcuni dei quali tra poco dovranno chiudere. Mi sembra che ci sia anche troppi per concorrenza ai privati, a chi ha il negozio normale e poi aria verde anche, è certo che fermo. Sa di che cosa abbiamo bisogno? Di un centro sportivo. I centri commerciali ce ne sono già fin troppo. Non ci servono, perché questo non deve diventare un quartiere dormitorio di Milano. Sto firmando perché non voglio i centri commerciali, vanno bene i piccoli negozi che ci sono ad Abbiategrasso, che almeno sono del posto e devono andare avanti. Va a togliere quel poco di verde che ormai abbiamo attorno rispetto a chili e chili di cemento che basta, non ci serve per respirare. Sono contraria perché penso che prima del centro commerciale bisogna fare molte altre cose e in ogni caso siamo attorniati di centri commerciali, supermercati, quindi non penso al momento serva. Chiudono le fabbriche e aprono i centri commerciali, non capisco come mai. Cerchiamo di tenere aperte le fabbriche e di far lavorare la gente, di farla produrre, non di farla consumare cose inutili.